Proprio all'imbocco dell'autostrada, all'uscita di Avola, c'è la Corte di Bacco. Nasce da un'antica tradizione. La Corte di Bacco è trattoria, bar, turismo rurale. Qui potrai trascorrere momenti piacevoli con i tuoi amici. Su prenotazione, degustazione di antichi sapori. Dalle lumache ai ravioli di ricotta al nero di seppia. E poi i famosi vota-vota, il coniglio alla stimpirata, i nostri legumi e tante altre specialità. Un menù ricco che ogni giorno a pranzo e a cena farà la tentazione del tuo palato. La Corte di Bacco dispone di accoglienti camere con climatizzazione, tv e bagno indipendente per rendere il vostro soggiorno più accogliente. Sulla strada statale 115, all'imbocco dell'autostrada Siracusa Gela, ad Avola, la Corte di Bacco vi aspetta per deliziarvi con i vini siciliani e il famoso Nero d'Avola. La Corte di Bacco. Sapori di casa nostra. La Corte di Bacco. Sapori di casa.